Cerignola produce il grande marchio che abbiamo annunciato caratterizzerà tutta la produzione di Cerignola nel prossimo futuro con la nostra amministrazione. Nel comizio di domenica sera abbiamo annunciato misure per l'occupazione che riguarderanno il settore agricolo, che riguarderanno il settore edile, che riguarderanno il settore commerciale. Le urla isteriche le lasciamo agli altri, noi ci prepariamo ad amministrare Cerignola.